Dal 1969 ad oggi la parrocchia di Santa Maria Goretti di Fano celebra il 50esimo anniversario della fondazione. Il ricco programma dei festeggiamenti inizierà da mercoledì 3 luglio con la giornata dell'adorazione che prevede l'esposizione del Santissimo Sacramento alle ore 9, successivamente alle ore 21 l'adorazione eucaristica comunitaria in chiesa, mentre alle 22 la benedizione eucaristica e riposizione del Santissimo Sacramento. I festeggiamenti proseguiranno poi anche nella serata di giovedì ore 21 e 15 verrà presentata una mostra fotografica del 50esimo anniversario e letture in poesia in dialetto in ricordo dei personaggi ed eventi trascorsi. Venerdì 5 luglio invece sarà la volta della giornata della preghiera. All'interno della chiesa verrà fatta una veglia con Santa Maria Goretti animata dai giovani. Sabato 6 luglio invece nell'area polisportiva parrocchiale sarà organizzata una cena sotto le stelle a partire dalle ore 20. In conclusione poi di domenica 7 luglio giornata della festa patronale il Vescovo Trasarti celebrerà una santa messa alle ore 20 e 30 in onore della Santa.